buongiorno signori sono alessio monotti della romus re immobili esclusivi oggi ci troviamo alla selvotta a pochi passi dalla laurentina per presentarvi una nuova villa su tre livelli in vendita ampio giardino angolare di 120 metri quadri circa con un rigoglioso olivo portico di 10 metri quadri un luogo ideale per gli amanti del verde siamo a poca distanza da roma tramite via laurentina arriviamo all'eure all'uscita 25 del grande raccordo anulare in circa 20 minuti ampio locale con ingresso indipendente ed accesso al giardino soggiorno con comoda scala che conduce in tutti i livelli una camera di 10 metri quadri circa con bagno dotato di box doccia e finestra spaziosa soffitta di 15 metri quadri circa con lucernai ed armadi a muro pavimenti ingresso porcellanato infissi nuovi in legno doppio vetro e persino un impianto domotico collegabile ad alexa box auto di 21 metri quadri con serranda elettrica ci troviamo in un contesto davvero tranquillo riservato ed immerso nel verde per oggi dalla la selbotta è tutto io vi saluto e vi aspetto